ecco la nuova c6 t rf edition videocamera motorizzata con alarm hub integrato risoluzione full hd angolo di rotazione 340 gradi orizzontale e 90 gradi verticale visione notturna fino a 10 metri maschera privacy funzione parla e ascolta avviso sonoro e notifica in tempo reale funzione motion tracking per seguire gli oggetti in movimento compatibile con tutta la gamma di sensori easy bis micro sd card fino a 128 gb vediamo cosa c'è all'interno della confezione l'alarm hub c6 t rf edition il telecomando multifunzione il contatto magnetico wireless il cavo di alimentazione l'alimentatore la base la dima per i fori di installazione il kit di tasselli e il manuale procedi con la configurazione della videocamera per prima cosa collega la videocamera la corrente elettrica con il cavo e l'alimentatore quando la videocamera è pronta per la configurazione l'indicatore led lampeggia di colore blu e rosso connetti lo smartphone alla rete wifi scarica installa l'app easyvis dall'app store o da play store avvia l'app e accedi o registrati seguendo la procedura per aggiungere la videocamera tocca più nella pagina iniziale inquadra il qr code che trovi sotto la videocamera o sulla copertina del manuale seleziona la tua connessione e inserisci la password della tua rete wifi regola il volume del telefono al massimo per inviare un'onda sonora contenente le informazioni necessarie alla configurazione posiziona lo smartphone vicino alla videocamera e attendi qualche istante il dispositivo è stato aggiunto seleziona il fuso orario e il formato della data clicca su vedi dispositivo per completare la configurazione c6drf è ora in funzione per aggiungere il contatto magnetico wireless tocca più in alto a destra inquadra il qr code che trovi sotto il coperchio del vano batteria è possibile installare il rilevatore magnetico su una porta o una finestra puoi collegare fino a 32 dispositivi easyvis al tuo hub di allarme dopo aver associato il telecomando all'hub è possibile gestire localmente l'inserimento e il disinserimento dell'allarme da remoto puoi anche utilizzare la app posiziona la videocamera per ottenere la migliore inquadratura e per ottenere un'angolazione ottimale puoi regolare la videocamera tramite l'app easyvis tramite l'app c6d può scattare una foto a 360 gradi dell'ambiente ti basterà poi cliccare su un punto qualsiasi di questa foto per orientare la c6t in quel settore e vedere ciò che ti interessa dall'app puoi selezionare le impostazioni di notifica allarme e notifica audio e regolare la sensibilità di rilevazione di movimento grazie all'audio due vie puoi ascoltare ciò che accade ma anche parlare basta attivare il microfono ora puoi controllare da remoto ciò che succede inserire l'allarme ovunque tu sia direttamente dalla app easyvis in caso di allarme riceverai subito una notifica sul tuo smartphone dalla camera e dai dispositivi ad essa collegati c6trf edition è pronta all'uso